buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video del gobo toscano o finalmente torniamo a parlare di calcio mercato finalmente è finito il ferragosto cioè non ci si faceva più qua almeno non ci si faceva più io ferragosto non l'ho mai tollerato anche perché io ci ho vissuto per tanti anni qua tra rimini e riccione e ferragosto per il discorso turisti ma poi i turisti c'è quella parte dei turisti buona e quell'altra veramente assurdi assurdi sballati in giro a distruggersi dalla mattina alla sera ecco finalmente è finito e da oggi piano piano ancora oggi domani dopo domani ci sarà comunque qualche rimasuglio ma poi dal lunedì 18 diciamo che piano piano si torna verso la normalità fino ad arrivare al settembre che qua secondo me è come maggio no sono i due mesi più belli di tutti c'è ancora caldo ma c'è la possibilità di goderti veramente il paese il posto e le persone del posto ma del turista meglio di ritrovami toscano che viene in mare non me ne frega nulla di trovami il napoletano non me ne frega nulla di trovami eri delle città riaello da bologna che c'ha la casa di babbo dottore che fa tutto il fenomeno non me ne frega nulla io voglio stacco la gente di posto noi siamo romagnoli noi siamo romagnoli io diciamo sono mezzo romagnolo e mezzo toscano ma mi sento comunque sempre romagnolo quando guardo la carta identità e c'è scritto nato a rimini nato a rimini ecco forza romagna ragazzi forza romagna scusate la premessa ma il mio paese merita merita sempre una citazione il mio paese d'origine quello di adozione la toscana che ormai mi ha dato il dialetto no praticamente in tutto e per tutto diciamo la ringrazio ma non quanto la romagna la romagna quello che mi ha dato la romagna la toscana non me l'ha mai dato e mai me lo darà senza nulla toglierà la toscana per carità allora vediamo al calcio mercato perché ieri sera è successa una cosa che ha da ovviamente come si dice bisogna parlarne no bisogna parlarne è importante citare questa cosa che è successo fabrizio romano sul proprio profilo x cosa fa fa una dichiarazione molto molto importante prima di ciò però mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale che è gratis lasciate un bel mi piace condividete il video commentatelo attivate la campanella delle notifiche e rimanete così sempre aggiornati in più andate qui sotto in descrizione c'è il link del nostro secondo canale calcio news 24 e iscrivetevi anche lì mi raccomando è molto molto importante allora cosa dice fabrizio romano cosa dice il buon fabrizio romano e ora ve lo leggo subito il trafiletto la juventus ha migliorato la sua proposta per te un cop miners dopo che l'atalanta ha rifiutato un pacchetto da 50 milioni più 5 milioni di bonus extra nuova offerta per un valore di 52 milioni di compenso fisso più 7 milioni di componenti aggiuntivi fino a un pacchetto da 59 milioni mentre la juventus cerca di concludere l'affare cop miners ovviamente è in attesa che i club decidano ok quindi lui è lì fermo diciamo una situazione un po particolare per lui ma non è l'unico a vivere quella situazione tra atalanta juventus e mancano ormai tre giorni alla partita della juve no tre giorni scusate lunedì ho detto lunedì 18 no è lunedì 19 scusatemi lunedì 19 dopo domani e domenica 18 lunedì 19 perché giova la juve con il como scusate ero un po frastornato ecco io vi dico ora non è possibile credo che per un milione che manca arrivare ai 60 richiesti all'atalanta ci siano troppi discorsi da fare ora già 5 milioni secondo me era una bazzecola e l'atalanta doveva accettare l'offerta non l'ha accettata io non pensavo vi dirò la verità qui ho toppato di brutto qui ho toppato di brutto perché non avrei mai pensato la juventus si sarebbe spinta più dei 55 milioni e invece addirittura 59 milioni ora se non accetta l'atalanta è da veramente da dare degli incompetenti a quelli che hanno gestito la trattativa da una parte e dall'altra e a veramente all'atalanta non chiedergli più nulla e non vendergli più nulla fino alla fine dei giorni cioè non si può cioè copminers 60 milioni bene ma l'atalanta non te lo vuole dare cioè te juventus devi essere brava ad avere altri obiettivi e non ritrovarti al 16 di agosto a provare a chiudere per copminers a 60 milioni di euro milione più milione meno ragazzi sono 60 milioni c'è 60 milioni di euro per copminers qualcuno mi dice no ma sono 59 si cambia di morto su 60 è come uno dice madonna ho perso 60 euro no l'ho perso i 59 uomo ma è rimasto un euro fa festa stasera fa festa può accettare fuori pagucino a tutti secondo me è un veramente rischiare ad arrivare qui e con il rischio l'atalanta ti possa dire di no ripeto secondo me non dirà mai di no ma secondo me non diceva di no neanche 55 quindi avendo toppato la prima di dio non mi voglio esporre pare sia ormai tutto fatto cioè che non si possa dire di no un'offerta irrifiutabile ma se dovesse mai succedere ci troviamo col culo per terra con tanti soldini in più ma col culo per terra per il livello di tempo ecco partiamo dal dal pre io sono contrario alla trattativa copminers dall'inizio anche quando si parlava di 50 48 milioni ero totalmente contrario perché secondo me un giocatore a quelle cifre all'estero più giovane lo trovi lo trovi non sarà il copminers fatto e finito di oggi ma può essere un potenziale meglio di copminers no quindi cioè perché 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 dobbiamo dobbiamo star lì a dissanguare le casse della juventus visto che in borsa stiamo andando da dio per un giocatore che proviene dall'atalanta ha fatto paio di stagioni ottime l'ultima fantastica ma all'atalanta e quando fai quelle stagioni lì solitamente o sei un fuori classe e quindi il prossimo anno vale già 100 milioni se non 120 o non ne fai più perché se copminers dovesse andare a progredire ancora di più rispetto a le stagioni che ha fatto all'atalanta io dio il prossimo anno ti vale minimo minimo 100 milioni se quest'anno si mantiene sullo stesso trend o migliore addirittura con però la maglia della juventus giocando champions league supercoppa italiana campionato coppa italia mondiale per club ecco in quel caso lì allora vi dio allora la juventus ci ha visto bene ma io non credo che sia così non abbiamo intanto la certezza che la situazione vada in un modo in un altro ma io poi non credo personalmente non credo proprio che copminers faccia meglio alla juventus che all'atalanta e mi voglio sbagliare lo spero perché veramente siamo siamo ridotti male siamo agli ultimi giorni mancano 14 giorni e il calciomercato chiude ci mancano ancora 4 5 acquisti io non vedo vi ho detto i conti si alla fine e li faremo alla fine ma ahimè la situazione più che passano i giorni e più che diventa critica no poi o io mi immagino perché io spero e credo in questo che giunto lì nell'ultimi cinque giorni di mercato ti porta tre colpi ad esempio no che noi arriviamo lì incazzati sclerati e cominciato il campionato ne abbiamo presi solo uno barra due poi ti arrivano gli altri due o tre alla fine 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 del campionato bene ci serviva qualcuno anche già per la partita col como ma non è un alibi il como va battuto senza se senza ma ok il como va battuto anche senza la squadra finita il como si può battere anche con la squadra dell'anno scorso il como lo potevi battere anche con rabbio alexandro e de ciglio ok quindi noi siamo la juventus questo dobbiamo riordarcelo girano le scatole perché è inevitabile girano le scatole ma dobbiamo essere fiduciosi sia nella partita contro il como sia nel calcio mercato soprattutto nella fase conclusiva io voglio dare fino all'ultimo giorno fiducia giuntoli e a tiago motta poi vedremo vedremo e faremo daremo le valutazioni del mercato ok valutazioni del mercato in più daremo anche a fine campionato le valutazioni sulla squadra perché poi bisogna vedere cosa farà tiago motta col materiale umano che avrà ricevuto dal mercato ovviamente avrà gli attenuanti se arriveranno meno giocatori e non avrà gli attenuanti e non avrà alibi se ne arriveranno di più ma ripeto il tutto va sempre rapportato alla situazione economico finanziaria della juventus football club perché non è facile arrivare a dover fare una squadra che competa in tutto il mondo ok a livello mondiale europeo mondiale non solo nazionale con 30 40 milioni di budget perché poi devi trovare i soldi dalle cessioni e fino a che le cessioni sono fattibili bene ma quando le cessioni si impuntano è di diventa difficile ragazzi diventa difficile muca coppuners da quello che sappiamo sta arrivando sta arrivando e ragazzi voi dite ma scrivete sempre ci siamo perché la trattativa è sempre lì non c'è mai stata una frenata in cui la juventus abbia mai detto no non lo vogliamo più o l'atalanta no non ve lo vendiamo lasciate stare le dichiarazioni di facciata ma ad oggi la sensazione è sempre stata quella che coppuners da un giorno all'altro possa arrivare quindi ovvio ogni giorno ovvio ieri non ho parlato di coppuners ne parlo oggi ieri non c'è stato movimento fino alla sera che fabrizio romano fa questa questo tweet importantissimo con questo posto su x perché non si ama più twitter ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti mi raccomando condividete il video iscrivetevi al canale like commento e attivazione della campanella mi raccomando anche di seguire il canale in descrizione calcio news 24 fino alla fine forza juve e fino alla fine forza gobo toscano perché il gobo toscano siete tutti voi ragazzi finalmente è finito il ferragosto sei cazzo grazie grazie